Allora intanto, come sta Salvatore Aloi? Perché qualche problemino c'è stato di classica influenza questa settimana? Sì, sì, ho avuto un virus intestinale ma l'ho smaltito subito e sono venuto subito ad allenarmi, sto bene. L'impatto di Zeman con Salvatore Aloi, nel senso le tue prime impressioni? Niente, il mister ci sta dando una grande mano, dobbiamo imparare noi a conoscerlo, a vedere quello che vuole e riuscire ad applicarlo al meglio. C'è un bel gruppo, vedo, perché dietro la telecamera ti fanno sorridere. Sì, sì. Chi è dietro la telecamera? Cuppone, Mora. Torniamo al prossimo turno, Catanzaro. Sono in festa, però ho guai a pensare ai regali. Sì, c'è da fare i complimenti al Catanzaro che ha raggiunto un traguardo straordinario. Ovviamente loro non vorranno fermarsi, vorranno battere tutti i record, l'hanno detto anche nelle dichiarazioni loro, ma noi dobbiamo pensare al nostro cammino da qui a fine campionato che abbiamo l'obbligo di raggiungere il terzo posto. C'è anche un po' l'area di casa per te? Sì, è un pochettino lontano, però un pochettino l'area di casa la sento, dai. Zeman ti sta provando più da play, più da mezzala? Il mister mi fa giocare sia mezzala che play, però ovviamente mi metto sempre a disposizione su guai della squadra.